Elisabetta Gregoraci sconvolgente. Spunta l'amante segreto di lei, si tratta di un uomo famosissimo Ecco che cosa ha confessato lui. Incredibile. Elisabetta Gregoraci, parla l'amante segreto La ex geffina è stata con lui quando era ancora misbreatore Assurdo. La verità viene a galla. Elisabetta Gregoraci fa, esse parlare l'Italia conduttrice e showgirl di grande successo, Elisabetta Gregoraci è un volto noto del piccolo schermo Recentemente l'abbiamo vista al timone di Battiti Live, il programma musicale in onda ogni estate. Ma ancor prima, la bella ex moglie di Flavio Briatore è stata una delle concorrenti del grande fratello VIP Il reality di Alfonso Signorini le ha restituito la notorietà che per un po' aveva accantonato in un cassetto Lei, che per tanto tempo è stata la compagna dell'imprenditore più ricco e famoso d'Italia, Flavio Briatore, si ritrova ora al centro dell'attenzione sempre per uno scoop che riguarda la sua vita privata Spunta fuori l'amante segreto. Parla proprio lui e fa delle confessioni che lasciano tutti di stucco Ecco chi ha avuto una relazione con la bella showgirl quando quest'ultima era ancora Miss Briatore Chi è il famoso amante della ex Miss Briatore arriva uno scoop sconvolgente che riguarda Elisabetta Gregoraci La ex moglie di Flavio Briatore avrebbe avuto un amante, il suo nome è Nino Magli, un imprenditore e stilista molto conosciuto Uomo riservato, ha sempre cercato di tenere la sua vita privata lontano dai riflettori ma qualche tempo fa, ha voluto rendere pubblica la sua relazione clandestina La prima vissuta con Elisabetta Gregoraci quando quest'ultima era ancora la signora Briatore Ecco che cosa ha dichiarato, a cose pesanti quelle di Mino Magli che ha dichiarato che la Gregoraci, non solo non è stata fedele a suo marito Flavio Briatore ma, contemporaneamente, ha avuto più di un amante Secondo sempre le parole di questo presunto ex fidanzato, la Gregoraci avrebbe stipulato un accordo con Briatore solo per ottenere fama, soldi e popolarità Magli ha poi affermato anche di aver passato una notte di passione insieme alla Gregoraci, nel periodo in cui la salute di Briatore stava preoccupando tutta Italia Elisabetta, come si suol dire, non si è tenuta la posta e ha voluto rispondere a questa accusa infamanti nei suoi confronti mosse da Mino Magli La donna ha dichiarato che quest'uomo è un impostore e un millantatore, conosciuto nella sua famiglia per i guai che ad essa ha causato Dopo queste affermazioni, la ex Miss Gregoraci, non ha voluto più parlare di questa situazione che ancora oggi resta a volte nel mistero E infine, grazie per aver guardato il video Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video Grazie a tutti